Ragazzi prenderò culo e effulsione Allora Direttamente Sìììì vai prendila Sto scherzando Oh no Vediamo prendo cuore scuro Faccio direttamente il personaggio Te la fai da solo Questo è vero Mi rompe i coglioni Se vuoi So che cazzo fare questa roba Ma non me prega cazzo Eh sì che hanno tutti i loro Eh che hanno tutti i loro discorsi Sì sì Allora Accordiamo ragazzi che la difficoltà è un'ora Quindi ci sono delle tossicate Mamma mia Allora io direi Sti che abbiamo provato Prima di giocare abbiamo provato un po' la difficoltà Ci sono delle cose assurde Lei possiamo dire questo è un po' la maratonella Allora Allora Quindi gioca un po' a Baldur Ma giocheremo anche a Firearm Ma Guarda va benissimo Perché Perché sì Contanto ma non ci abbiamo Vadoci a cazzo di giocare Eh Sì lo so Mi stanno tutti spammando su quella chat Sì ragazzi la strada Tranquilli scrivo quella chat Scrivo Oggi la scrive Oggi la scrivo Anche al costo di Mi staccare una gamba Allora classe Dove la barbara? Ecco Dico E storia E vabbè Cuore scuro di nuovo Quello è stato inteso Cosa? Cosa? Non ho parole Io non ho parole Quella donna Ha più Tua attenzione di me Cioè Non farmi parlare? Non farmi parlare un consiglio Vuoi farmi parlare? No Siamo in live No Allora amore Come trucchetto Mi prendo L'occo gelito O dardo di fuoco? Questa è fa Che classe? Eh No no Questa qua è della Della dinastia Eh sì Della dinastia Della 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 Sì sì Ti piace Ti piace Ti piace Ti piace Ti piace Ti piace Vincere Facere Elfa Ma io che cazzo devo fare Tu hai compito Io chi? Non so Ah vero Quarescuno Non so se me la faccio Però facciamo L'altro La facciamo Buona Però ho paura Di farla cattivare Che c'è un problema Ma no Perché mi sa Che nel caso Della locanda Se io faccio Che le divento Oscure Quindi ammazza La tizia La Pensa che attaccano La locanda E muoiono Tutti quanti E la sensazione Che il fight finale Quando entriamo Dentro il castello È ancor più difficile Perché non eravamo Gli alleati Di Chi Era sicuro E contando poi Però che il fight Quello dopo Con Tutta la gang Lì All'atto 3 Non ce la facciamo Allora Quanto è da moddare Sto gioco Cazzo Sì ma troppo Troppo No perché Sei brutto così Era bellissimo Però Moddato Moddato Gli fa uscire Il cazzo fuori Allora Ma potrei fare Mago Io non so Che fare Sarò un tank Comunice a prendere colpi Barbaro Allora vado Abbiamo assassino Astaria Ancora Scuro Healer Potrei fare supporto Sto run Ma moriamo Ricordiamo Sto run È una run Come altre Li numereremo Comunque Ma non vuol dire Che adesso I pc Si salveranno Da morte Certa Mentre che Con l'aggiornamento Hanno cambiato Tutte le difficoltà E provando Solo il primo atto Siamo morti Istantaneamente Con una stronzata Che non fosse facile Però l'hanno reso Un inferno Ehm Firi tutta la cosa Stragore C'è forse Lars Qui non sarebbe Una brutta idea Vuoi chiamarlo? Certo Vuoi impicciarlo Nel discorso? Firi Lo vuoi tu Una cosa Allora Se ce lo mettiamo L'unica cosa Ci dobbiamo organizzare Per fare la giocata Un po' più spesso Non una volta Ogni sera Tipo ogni sera Se vuoi Vabbè L'unica cosa Poi va Cioè Come facciamo Con l'audio Ma io la chiedo Ah ok No perché Vuole fare la difficoltà Un'ora Eh ma io Più persone Secondo me Già Allora Io prendo Elfo Trucchetto Pugelito Così tolgo il fattore Che le persone Si possono curare Eh L'ho pensata bene Vedi Il problema Tanto Ho dato Quello scorso Ci sarà Il meme Di me L'arte Che riesce a fare Magare Che se la bomba Chissà che Classi Si fa Stavolta Se è barbaro L'ombardo Allora Collapse Vamo un gruppo Di vent'anni fa Che esiste Però Questo Con la La tizia La Cazzo Delle User Mi hanno proposto E far L'armeria Di Non sa Mai aperto Sicuro Ma C'è sempre Con axel Qua Serio? Si l'ho trovata In culonia Ma sai che Server Deliranti Ho trovato Gruppo Di venne Ah Qui dove c'è La tua sorella Ok Ricordo No Ho fatto Delle robe Qui la mia Ex Parese Era Alessia Per caso Ecco Riparte Sì no Perché Me la sono Legata Questa Legata Vabbè Me la stai Vecchia Ormai Ti ricordi Ti ricordi Anche il nome Quindi Sì Perché me l'ha Ricordato Chiamola Pronto a giocare La difficoltà Onore Sei pronto a morire Cento volte Che questa Chiamata Mi ha fatto Cacca sotto Perché ci stavano Sì Che te le manate Segreto Vabbè Ci sta Sei pronto a morire 50 volte Eh Tipo Non puoi Morire 50 volte E te fidi Abbiamo fatto Una scoperta Assurda Ricordi Fight D'orso Gufo Che era Una cazzata No Bellissimo Quel fight Difficoltà Onore Sai che hanno Modificato Tutti i fight Vero E tipo Sono più Difficili Sì Sì Hanno Tipo Delle cose In più Il problema Che Quel fight Lì Hai Due Orsi Gufi Non Uno E L'orso Gufo Tipo A livello Già Già Molto Bella È stata Una scoperta Abbiamo detto Ma da quando Mi dice Moon Ma ragazzi Io vedo Due orsi Come Vedo Un gufo Saltare No ma Tipo C'è presente In alto In alto Che c'era Quel punto Che non Riuscivamo Mai A superare Il dato Non so Se c'era Anche Dovano Che abbiamo Provato E quello Là Non c'era Vabbè C'era Un punto In alto Dove Devi Superare Un dato Per fare Una cosa Che non Si è mai Capito E lì A quanto Pare C'è Stava Un Orso Gufo Probo Cioè GG Ok Dovranno Scoprirlo Dopo Io Ti ho invitato A me Sta a fare Aggiornamento Aggiornamento Di quanto No Poco Qua si finiva Ok Domanda Su Bs Mentre che sto Streamando Da fastidio Se tengo l'audio Cazzo Me ne frega Ok Tu sei un figo Lars Sei mio amore Porca troia Secondo amore Secondo amore Secondo No Nessun amore Scherzando Ok Già c'è Sa cuore oscuro Ma deve Pensare pure All'arsa Ma non ho Cazzo di parole Ce l'ho con cuore scuro Ce l'ho con cuore scuro Che Vuoi parlarci Scusa Se non vorremmo Ricordare C'è cuore scuro C'è la cariata Contro Allora Allora Non moriva Allora Non mi ne può fregare Un cazzo Se lei è sopravvissuta La morte Alla peste Gli è arrivato Un cazzo Di Fulmine Dentro per il culo L'ha fatta diventare Morta Viva Morta Viva Cioè Per me Deve morire E basta Non mi interessa Azzarda La tua Cazzo di parole scuro Guarda che la waikula Allora Stank Carla No Carla No Vabbè No Non ti dà fuoco Se le pari cuore Non ti dà fuoco No Non ti dà fuoco Anzi Te la puoi bombare Tranquillamente Se non fosse Se non fosse Che ti schipta Una parte Storia E quindi Non te la puoi bombare Se non fai Certe cose Che sai Quindi Nel senso Mi sono fatto Volentieri Un cucciolo Vuoi ammazzare Ma è un cucciolo Ma non mi interessa Ma non Ma a prescindere In gioco È inutile Il cazzo Però Cioè è un cucciolo Vuoi uccidere un cucciolo Ma è un cucciolo Ecco Muna Hai ammazzato Una bambina Non vorrei ricordare Non mi interessa È un cucciolo Cioè Vedi l'orso Cioè Il cucciolo Oh Il bambino morto Ah vabbè Sti cazzo Allora Amore È nostro figlio È mio figlio No Può morire Allora Me ne hai fatto un cazzo Nostro cazzo Ecco Allora Può morire a prescindere Grazie Amore Muno ho capito Non vuoi vedere Qualcuno Gioco Che è con l'ora Oh Vabbè Che cazzo Me faccio Non so Il deciso Siamo in onore Giusto Siamo in onore Quindi Tra iardino Combo fisica Che può inventarti Nella tua testa Palle In onore In onore Palesemente Mi devo fare Un mezzorco Ok Vabbè Vabbè Meglio Degnare Dell'altra Running Che faccio Il maschio E' già finito Ma ti svegli Ma che quermana Era più forte Di tutte e due Messe insieme Porca puttana Aspetta Aspetta Riforto Perché non mi ero ancora Insata a multiclassare Ma pure io Ancora non ho Multiclass Non ti svegli Non ti svegli E' un dettaglio E' un dettaglio E' un dettaglio Rilevante E' un dettaglio E' un dettaglio Tu cos'è che fai Di classe Lars No lo so Devo vedere Scusate Chia che prendiamo Come quarto Se Murfo Cuore Eh sì Murfo Il chiarico Cuore scuro Non serve più Sì Cuore scuro Non serve più C'è Cuore scuro Sì Sì Ma perché Povera crista Perché è una Stronza Mamma mia Cioè no Nel gioco è proprio Una stronzetta Fino a un certo punto Ti giuro Ma come tutti I personaggi Credo Solti Carlac Gale Will Tutti altri Non è figlio Di potere Eh appunto La metà Sono stronzi E l'altra metà Sono Will è uno scemo Però nel primato C'è la laser All'inizio E ora Puoi farla anche crepare No no Ti dico La laser L'apprezzo Molto di più Di Gale No Laser Buona L'evoluzione Ma di base A inizio Veramente No Prefile Vole nettamente Poi l'evoluzione Sì Vai a preferire Laser Perché comunque Alla fine È stata un po' più Emotiva Ma ci sta Allora ragazzi Oddio Canser Non sei Motiva A spaccare Le gambe Allora ragazzi Ho preso Comando Eh Vole dico Sì Fai cadere Quell'uomo Aspetta Dipende dalla classe Che prende lui Perché mi adotto A quello Perché oltre Anche al quarto Che vogliamo prendere Che servirà Per topare Sono indeciso Cosa sta la cosa Eh mi vorrei fare Tipo un misto Barbaro Guerriero Paladino È la puttana Paladino Che ti interessa I primi due livelli Fai 5-5 Di entrambi No Sì 5 livelli Da paladino 5 livelli Da barbaro 2 del guadero Sei a posto Quindi tu fai Il melee Ah ma devi decidere La classe con cui Partire o sbaglio Perché se devi partire Io ti consiglio Barbaro Perché almeno Hai l'ira E tanchi qualcosa Già Dallo start Perché elevato Te Non c'è Nessuno Che tanca Io volevo Farmi a sto punto Mi sa Assassino Sto pensando se Ranger O l'assassino Lars consiglio Ranger o l'assassino Nessun dei due Grazie Ti voglio bene Anche io Lars Io ti direi Di farti Ottimo Chierico O un bardo Un chierico C'è la Un bardo Allora Eh ma Un po' Multicola Sarsi Eh T'ho detto Te Fate bardo Se Bardo Mi fa cagare A merda Spruzza A me non piace A me non piace Il monaco Non è neanche male Oh Allo start Allo start Lo vedo crepare Troppe volte Dipende Se ti fai La via Della mano aperta Fai la tiri Ciorte botte Ma se tu Quello che fa Fai facendo No Vabbè Fai che ti vale A me che moriga Ah sì Sì Dobbiamo sopravvivere A quello Il problema E te lo assicuro Non è facile Sopravvivere Un mago Un mago Serve per forza Quindi però Un mago Gale Gale Sì Potremmo raccattare Gale Odi però Non ho mai giocato Un mago Io That's a way to start Sì Non è un buon momento Per te Stai Fidati di me Ma Stai pensando Allora Io vorrei capelli Nuovi Su questa scelta Mi sta cominciando A ruote Per il culo Sta cosa Fidati che ci servirà Qualcuno che scassini Ma che sia veloce Ma se faccio l'altro Tico Vedi che consiglio Fara un po' Interrompia Però come cazzo Fai Vabbè Sicuramente Al costo Per forza Il guerriero a tre Il guerriero a due C'ha un cazzo Dico Allora Mi serve un consiglio Per l'abilità Aspetta Allora Immaginavo Vabbè Quella fosse L'arma migliore Secondo voi Ci sta così Come mi sono messo Mi piace tutto Ovviamente della vita Cioè Sì 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 Della vita L'ha già presa Boh Io comando Non lo Cioè Ah no Comando sia stato Perché c'è l'arca De prendere l'arma Io sto Guardando Il secondi Sì sì Ti piace Multiclasse Resto a bordo La cosa? O con il ranger Che appunto Multiclasse La grande Che ho fatto Io l'ho multiclassata Con quello Ti prendi Che nei suoi livelli Guerriero Così ho azione Impetosa Posso attaccare Due volte Più che se prendi Guerriero Ti puoi specializzare Un'altra arma Oh Boh Sì Cioè tutti fanno così Prendi guerriero Due attacchi extra Due livelli di guerriero Questi azioni impetuose Ranger full E sei opposto Tutti fanno così Vabbè però Prendono terzo livello Del fighter Probabilmente Per le manovre Perché c'è una manovra Forse che gli fa comodo Vabbè sì Vabbè sì Oddio si può fare Mezzorco bianco Buono Mezzorco chi? Mezzorco bianco Si può fare Vabbè Deciso Faccio assassino Tutta la vita Assassino Ranger Qua ho messo Druido WTF Ah Po 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 Sono deciso Come voglio fare Però Quanti tipi di peni Sì Sì In effetti Niente Family Friend È andata Vabbè dai È contestualizzato Se va Se vai Cinque livelli Cinque livelli Assassino Cinque livelli Ranger Come livelli Guardi Rapprendazione Impetuosa E si Campa Ragazzi Si Campa Però Però io Più danni Stavolta Lars Me ne assicurerò Aspetta Spera Ma secondi Dopo Lars Ti ruolo Gli occhi Da c'è Tipo Stai Tutti Lama Tipo Come è possibile Sempre Lars Sono Lars Il Medico Io Non curo Io Faccio Del male Ti curo Con la morte E' quella Diferenza Io Purifico La tua Vita Con la Morte Ma Sai Che Un Bell Dove Metto Il punto In rapida Le mani In furtività In inganno Intrattenere Intimidità O Persuosione Allora Ti dico Io Persuosione 3 Intuizione 5 Corbazia 7 Terapia Di Temana 5 Fruttività 5 Allora Se mettessi In inganno Avrei In inganno 4 Anche Persuosione 4 Intrattenere 4 Non guardarla E' bruttissima Ci sto Lavorando Devo ancora Fargli Aspetto Ma come Si A tua Posa Anacrattica Paladin Occhiazzurri Aspetta Vabbè Occhie cose Cose Cosate Consigli ragazzi La Fortività Rapidità Di mano Secondo me Vanno benissimo Sì E' meglio Non toccarle Il percezione Il percezione A 5 Ti prego No Ti prego Ti prego Ti prego Ti giuro Non voglio Vedere Allora Allora Percezione Così alta Ce l'ho Io Al 5 Quindi anche No Ti direi Si Inganno Mi sa che sarò Quello che Interloquirà Di più Vero Io Ho un 3 E' persuasione Però Al resto Ho tipo 1 La spalla di amicizia No No Pippo Io E' un inganno Persione Intrattenere Può anche Di maniera Lars Ingano Persuasione Persuasione Anche perché È più facile Questo Stasper Qua Vabbè Ramonello Per forza Ora Abilita Qua Che famo Tu stacchi In intelligenza Più Mamma mia Aspetta un attimo Ti consiglio S Grazie Non voglio Vernerf Strani Se 200 stress 14 14 Dovrebbe morire Meno sulla prima Combo Sai quanto Sarebbe brutto Morire ogni Cazzo Di 2 secondi E farsi I personaggi Ogni volta Mamma mia Già Ti consiglio Di cambiare La faccia Me la sto Occupando Non male Ti consiglio La quarta Per prima No mi piace Awww Awww Buongiorno